Giungete il contenitore di biorischio e difendetelo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nuovo caricatore! Drone in funzione. Sarò che è l'esplosione! Ricaricolo! Non è un nemico! Difendete la stanza e proteggete il contenitore! Difensori eliminati! Missione d'attacco riuscita! Non è un'esplosione! Non è un'esplosione! Non è un'esplosione! Non è un'esplosione!